Sicuramente non ci sono i tempi entro dicembre del 2020, quindi noi abbiamo chiesto alla presidenza finlandese, lo chiederemo al commissario Vacekoski quando sarà in audizione, di presentare presto questo atto legislativo di transizione, perché quest'atto transitorio darà la tranquillità agli agricoltori che con l'attuale PAC noi andremo avanti per un anno o due anni in più. Dopodiché lavoriamo sulla riforma, riforma che richiederà almeno un anno e mezzo di lavoro, forse anche qualche mese in più, perché bisognerà vedere gli spazi che ci sono per aggiustare questi atti legislativi che abbiamo sul tavolo e poi ci sono tutti i triloghi da fare, che la scorsa volta, lo ricordo, ci abbiamo messo 15 mesi di triloghi con la riforma di Dacianciolo, quindi immaginare che sia più veloce questa volta non lo so, sì, forse un po' più veloce, ma non meno di un anno di negoziato tra Parlamento, Commissione e Consiglio. Il primo gennaio 2023 nuova PAC è un calendario credibile, ma torno a dire, nessun problema per gli agricoltori, gli agricoltori saranno tranquilli perché avranno l'attuale PAC prorogata per almeno un anno o due.